Buongiorno, mi chiamo Gianluca Larocca e sono consulente tecnico di Man & Machine Italia. In questo breve filmato analizzeremo i principali miglioramenti e le novità di AutoCAD 2020. Partiamo dall'interfaccia, che ora è decisamente più nitida e contrastata rispetto alla precedente versione. Anche le scade contestuali sulla barra multifunzione sono maggiormente evidenziate quando attive, ad esempio quando si modifica un tratteggio o un testo. Anche la modalità di inserimento blocchi è stata migliorata grazie alla nuova tavolozza blocchi. La scheda disegno corrente mostra tutte le anteprime dei blocchi presenti nel disegno corrente. La scheda recente mostra tutti i blocchi inseriti di recente indipendentemente dal disegno o dalla sessione di AutoCAD. Mentre la scheda altro disegno consente di accedere ai blocchi residenti in file dvg esterni. Inoltre, grazie al campo Filtra è possibile eseguire ricerche mirate e con la nuova opzione Ripeti posizionamento è possibile effettuare posizionamenti multipli per blocco. Anche la funzionalità confronto di bugie è stata ulteriormente migliorata per consentire confronti e modifiche direttamente sul disegno corrente. Grazie al nuovo comando Importa oggetti, infatti è possibile importare le geometrie selezionate direttamente dal disegno confrontato al disegno corrente. Terminato il confronto, le differenze non saranno più visualizzate. Anche le operazioni di ripulitura del disegno sono state migliorate. Tutti i comandi sono stati accorpati nel gruppo Ripulitura. Il comando Elimina ora fornisce anteprime e consente una selezione puntuale degli elementi da eliminare. Inoltre, è stato aggiunto il comando Trova elementi non eliminabili che ci consente di capirne le possibili cause e dalla scheda dettagli di effettuarne direttamente una selezione nel disegno. Infine, fra gli strumenti di misura è il nuovo comando Misura rapida. Con questa modalità le misurazioni generali di un disegno 2D sono diventate molto più veloci. Quote, distanze e angoli vengono visualizzate dinamicamente mentre si sposta il cursore sopra e tra gli oggetti. I quadrati di colore arancione visualizzati agli angoli delle geometrie indicano che sono perpendicolari fra di loro. Con questo concluso la panoramica delle principali novità di AutoCAD 2020. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie!